Seconda vittoria stagionale per lo squadrone della Zaf Desiree Fior, che ha messo in bacheca il secondo trofeo One Pan in memoria al Mauro Di Nucci, gara riservata ad elite Under-23, grazie al guizzo di Davide De Pretto che ha battuto allo sprint Riccardo Moro e Kevin Bonaldo. Il campione italiano junioris ciclocross ha confermato di andare forte anche sulla strada, imponendosi nello sprint a ranghi ridotti che ha deciso l'impegnativa gara lucchese. La corsa è stata tirata e disputata su un percorso che prevedeva la partenza ed arrivo dal viale Luporini di Lucca, tracciato peraltro già sperimentato con successo nel 2021. Dopo un primo breve tratto in linea lungo la via Sarzanese fino a Ponte San Pietro, i corridori hanno affrontato un circuito di 15 km da ripetere sei volte, con la salita di San Martino in Vignale, incarognita dalla sperità delle nubache e poi scendere fino a Sant'Alessio e ritorno fino a Ponte San Pietro dopo aver attraversato anche Carignano. Il vicentino di Piovene Rocchette, classe 2002, ha sfruttato al meglio il forcing del compagno di squadra Federico Guzzo, scattato ai meno 25 dall'arrivo e ripreso solo in vista del triangolo rosso. Da quel momento sono iniziate le operazioni in vista della volata decisiva, che ha visto prevalere nettamente Davide De Pretto, che ha coperto i 134 km in 3 ore, 12 minuti e 14 secondi, alla media di 41-820. Il forte ciclista veneto ha battuto di alcune biciclette Riccardo Moro e Kevin Bonaldo nella volata del gruppetto dei migliori. Come detto si tratta della seconda vittoria stagionale per il blasonato Tim Trevigiano, che già aveva trionfato lo scorso 26 febbraio alla Firenze Empoli, proprio con Guzzo.